Il carcere per la 73enne passionaria Notav Nicoletta Dosio monta il caso politico. Il procuratore Saluzzo dice critiche legittime, ma è la legge. Buon pomeriggio dal telegiornale del Piemonte. Il Piemonte dunque è in carcere. Nicoletta Dosio, la passionaria Notav, che ha rifiutato le misure alternative, è stata arrestata nella notte. Oggi nuovo presidio degli attivisti in Val Susa per il procuratore generale Saluzzo. Critiche legittime, ma infondate. Allora facciamo il punto nel servizio di Paolo Volpato. E' detenuta Nicoletta Dosio, 73 anni, la passionaria Notav. Sconterà una pena di un anno per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Uno dei suoi avvocati, Valentina Colletta, dice che purtroppo non ci sono vie d'uscita. Ieri sera, al momento dell'arresto a Bussoleno, un gruppo di militanti Notav senza violenze ha cercato di rallentare l'azione dei carabinieri gridando arrestate i mafiosi e gli evasori fiscali. Nicoletta Dosio è stata condannata per una manifestazione di sette anni fa. Per protesta in Notav alzarono le sbarre dei caselli della Torino Bardonecchia. Danno all'autostrada di circa 700 euro. Una dozzina agli imputati del processo. Lei, unica, ha rifiutato di utilizzare le misure alternative alla detenzione. Lo precisa Francesco Saluzzo, procuratore generale, lo stesso che ha firmato personalmente il provvedimento di esecuzione della pena. Saluzzo definisce infondate le critiche. Peraltro, in considerazione dell'età, la stessa procura generale aveva dato alla Dosio una seconda possibilità per scontare la pena in casa in base allo svuotacarceri. Lei ha espressamente rifiutato, come già in passato aveva rifiutato di osservare gli arresti domiciliari evadendo quasi 200 volte, in genere per andare alle manifestazioni. Ora è un simbolo. Proteste in suo favore sono previste davanti al carcere di Torino a mezzanotte e altrove. E non sono mancate anche le reazioni politiche, ovviamente all'arresto di Dosio. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, attacca i sostenitori del TAV e scrive su Facebook una grande opera inutile detta legge nel nostro territorio. E io approvo disgusto per tutto questo, queste le sue parole. Mimmo Carretta, invece, segretario metropolitano del PD di Torino, scrive sempre sui social, l'arresto di Nicoletta Dosio lo trovo una misura eccessiva, evitabile. Non condivido nulla delle sue battaglie, ma così non va. Invece per Osvaldo Napoli, capogruppo al Comune di Torino, di Forza Italia, quando una persona è destinataria di una misura cautelare, non c'è mai da gioire perché l'istinto della pietà umana prevale su tutto, fosse anche il nostro peggior avversario politico. non cesserò per questo, dice Napoli, di considerarla schierata dalla parte sbagliata.